Dopo i lavoratori socialmente utili e gli ausiliari del traffico, ora arriva l'amico in petorina blu. Una sorta di stasi o psicopolizia orwelliana che dovrà perseguire gli untori della muvida? Già, perché imbarba al presunto modello Italia che fa gonfiare il petto a molti nostri governanti, stiamo in realtà assistendo ad una commedia dell'assurdo, dove i peggio vizi italici si fanno provvedimento, l'ineffabile afflato burocratico di esprimere l'inesprimibile in carta bollata. Siamo passati dalla saga del congiunto, amico virgola barra trombamico, alla fase suprema degli LSU, che popolano la fantasia degli amministratori meridionali, nel tentativo di regalare un obolo a qualche sfortunato. Nell'assistente civico, c'è il peggio di quanto siamo capaci quando vogliamo farci del male. L'assistenzialismo sconclusionato degli ausiliari del traffico, i tentativi marchiani di far battere cassa ai comuni alle spalle dei cittadini, lo stato etico che ti sorveglia e punisce, il principio di Peter, per il quale si mettono gli incompetenti a fare esegesi giuridica per stabilire se uno viola i precetti emanati da Conte in diretta Facebook, la teoria del capro espiatorio, per la quale bisogna perseguire i nuovi monatti, prima i runner, poi quelli col cane, ora i giovani che gozzovigliano ai navigli o ai baretti di Napoli e Perugia. Dai ai mediocri poteri paramilitari e sanzionatori e ti ritroverai dei capò. Ce n'era bisogno? Il governo italiano ha dovuto affrontare prima di tutti un problema immenso e sconosciuto come il coronavirus, ma l'atteggiamento assistenziale e moralistico di alcuni del PD e dell'M5S è duro a morire. Voler trasformare gli italiani capitalisti, libertini e libertari in devoti della decrescita felice, no TRIV, no TAP, no TAV, no MOZ, in corifei della filiera corta e della profilassi sanitaria è una tentazione troppo forte. E il sonno della ragione partorisce un nuovo Codetheater.occhio. Big Brother is watching you.